Belen Rodriguez, dopo la separazione da Elio Lorenzoni, sembra essere legata al cestista Bruno Cerella, con il quale era stata associata nel 2018. La celebrità ha recentemente condiviso un breve video che mostra un quadro, lo stesso presente anche nella residenza dello sportivo. Belen Rodriguez e Bruno Cerella, il loro primo incontro e la passione condivisa questo particolare dettaglio potrebbe indicare una presunta nuova relazione tra la showgirl argentina e il cestista. Tuttavia, Belen ha scelto di non rispondere alle domande e alle critiche dei suoi follower, che le chiedevano di chiarire la natura del loro legame e hanno evidenziato la rapidità con cui sembra essere iniziata questa nuova storia. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta nel 2018, poco dopo la fine della relazione di Belen con Andrea Iannone, attualmente felicemente fidanzato con la cantante Elodie. Si dice che ciò che unisce l'ex di Stefano De Martino e Cerella sia la passione per l'arte. In un'intervista a Forbes, l'atleta ha dichiarato, L'arte è una mia grande passione. Mi incuriosisce, anche se non sono un esperto. Sto approfondendo questo interesse e ho fatto amicizia con diversi artisti, ognuno dei quali mi ha offro esperienze e conoscenze uniche. Pertanto, sto introducendo gradualmente l'arte anche nei miei progetti residenziali. Ogni condominio sarà personalizzato con un'opera d'arte, perché ritengo che l'arte, come lo sport e la musica, sia un potente catalizzatore di idee. Grazie a tutti.